La sorta come si vede a San Pietro, che proprio siamo in clima religioso, la luce, la luce che mi ha dato la strada per migliorare e per affrontare questa nuova vita. Perciò tra i 16 e i 17 anni tu avevi proprio il massimo del tuo peso corporeo. Il massimo del tuo corpo corporeo e la massima disistima proprio in me stesso perché... Ti ha ributtato di...